La guerra a distanza tra Loredana Vertè e i professori di Amici, continua Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, infatti, hanno risposto in modo piccato ed ironico alla nuova proposta di cambiamento delle regole che la giurata ha fatto in vista della quarta puntata del cerale Se l'ex discografico si è limitato a citare il brano che la cantante ha portato in gara a Sanremo qualche mese fa, che cosa vuoi da me? La maestra di ballo ha chiesto ufficialmente che l'artista non voti più le performance di danza perché non sarebbe abbastanza competente sulla materia Pubblicità Loredana Vertè crea scompiglio tra i professori di Amici 18 in questi giorni, non solo Loredana Vertè si sta lanciando nel proporre grandi cambiamenti al regolamento del cerale di Amici, anche Alessandra Celentano, attraverso un messaggio che ha pubblicato su Instagram ha chiesto qualcosa di specifico in vista della prossima puntata La giurata del programma che ha proposto che Vincenzo prepari una coreografia sensuale, Alberto Rappi, Mameli canti un brano difficile e Valentina Sicimenti con coreografie diverse dall'hip hop, la maestra ha risposto per le rime ieri Io invece voglio fare una proposta conservatrice del talento, che la signora Vertè non voti più la danza, ma lasci il voto ad una giuria competente o che ha seguito i ragazzi per lunghi mesi nel loro percorso Il pensiero dell'insegnate di classico è molto chiaro, così come lei e i suoi colleghi non sono ritenuti da Loredana idonei a votare le performance dei cantanti in gara La scorsa settimana c'è stata una polemica per il salvataggio di Jeffio da parte di tutti i prof, così la giudice non avrebbe le competenze necessarie per votare i rappresentanti del ballo Pubblicità per il momento, non sappiamo cosa ne pensi la Vertè della richiesta avanzata dalla Celentano per la puntata di sabato 20 aprile, l'unica giudice di questa edizione di Amici, infatti, non si è più esposta sui social network dopo aver preannunciato l'arrivo di molte altre proposte, rivoluzionarie Le richieste di Loredana per la quarta puntata serale Il comunicato che Loredana Bertà ha diramato il giorno successivo all'eliminazione di Jeffio da Amici 18, conteneva alcune sue particolari richieste per la prossima puntata La giurata del serale, dunque, sabato 20 aprile vorrebbe vedere, Vincenzo esibirsi in una coreografia sensuale dove il suo ruolo è quello del maschio alfa, Valentina la prese con generi di danza diversi dall'hip hop, ma Melintonare una canzone difficile e Alberto provare a stupire tutti con l'interpretazione di un brano rap Nel corso del daytime che è stato trasmesso oggi su Canale 5, il pubblico ha visto le reazioni a caldo che i ragazzi hanno avuto quando Maria De Filippi ha elencato loro le proposte della giudice Se il tenore urso si è detto pronto ad accettare la sfida, ma Meli ha chiesto più volte alla conduttrice se stesse scherzando Pubblicità al cantautore, in particolare, non è andata giù la frase che la Bertè ha detto sul suo conto, se per lui cantare è comunicare, perché non si dà alle televendite, magari quelle dei materassi Questo articolo è stato verificato con www.tv.commingsun.it.tv.gossip.amici.2019.la.nuova.proposta.d.loredana.verte.la.dura.reazione.d.n88861.https2.tv.daili.it.it.v.amici. 2019-Alessandra-Celentano-E-Rudi-Zerbi-Rispondo-Alla-Nuova-Proposta-Di-Loredana-Berte.php-les-bloc-az-y